La notizia del giorno è certamente Adrian Newey che ha ufficializzato il suo passaggio in Aston Martin Ma andiamo con calma e capiamo chi è Adrian Newey e chi è l'Aston Martin Intanto partiamo dalla più facile, Adrian Newey è un genio della storia della Formula 1 che dagli anni 90 ha partecipato a tantissimi progetti vincenti Mentre l'Aston Martin è un team che da quando è entrato in Formula 1 nel 2021 Comprando quella che era la Force India poi diventata Racing Point ha deciso sempre di arrivare ai massimi livelli della Formula 1 con tantissime ambizioni e voglia di vincere Lawrence Stroll ha preso il progetto Aston Martin e volendo renderlo vincente Volendo renderlo un top team E perché è così importante questo trasferimento? Perché Adrian Newey come ho detto è un genio E l'Aston Martin da quando è entrato in Formula 1 con tutte le ambizioni che ha avuto ha portato dentro tantissimi ingegneri importanti come tantissimi ingegneri importanti che venivano da Ferrari, Red Bull, Mercedes e adesso con Adrian Newey la voglia è di crescere di fare il salto definitivo e la cosa più importante è che questo salto definirà il riuscire o meno dell'intero progetto Aston Martin qualora dovesse funzionare la Aston Martin diverrebbe un top team qualora invece dovesse fallire e non dovesse trovare velocità neanche con Adrian Newey la Aston Martin sarebbe relegata a diventare e arrestare un team di metà classifica qual è quindi l'ambizione? diventare un top team quando però? a partire dal 2026 perché l'intelligenza di questo trasferimento è che il 2025 sarà una base di prova per arrivare prontissimi all'anno che verrà al 2026 quando ci sarà il cambio di regolamento e quando Aston Martin passerà con Honda forse questo è un altro punto focale del discorso perché ormai Adrian Newey sono vari anni che lavora con Honda da quando Honda è tornata a far parte del progetto Red Bull e insieme ad Honda ha costruito uno dei cicli vincenti più grandi della storia della Formula 1 quello di Max Verstappen con le 19 vittorie sue e 21 della Red Bull del 2023 insomma Adrian Newey è un fenomeno conosce benissimo la Honda, il motore Honda sa come lavorare con i tecnici della Honda che forniranno il motore del 2026 e insomma Aston Martin fa le cose seriamente con questo colpo si è andati anche a indebolire quelle che erano le altre scuderie che ovviamente stavano pensando all'ingaggio di Adrian Newey come McLaren, Mercedes o su tutte Ferrari Aston Martin ha conquistato la fiducia di Adrian Newey offrendogli di più offrendogli la possibilità di rendere dopo la Red Bull anche Aston Martin un team vincente